Allora, chi è che prende la pastiglia per la pressione? Io l'ho già presa la mattina. Alla mattina un po' basta. Vieni a mandare a tutti. E poi dirò che da quando sono a casa la pressione non la proviamo più. Da quando sono a casa a lavorare. Io prendo la mattina. C'è la pastiglia della pressione e quella per il cuore. Ah, cariospirina? No. Ticlopidina? Ah. 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 Perché una volta... No, no. 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 Non approve. Vettacolo, assomiglia a uno con quei bafi e a un giornalista... da qualcuno... ma non mi viene in mente. Grazie.